Yo yo yo, ciao a tutti e tutte, mi chiamo Vince aka OneCent aka VCE, rappresento KMS Crew in Germania Pozza e shoutout anche a Genova, Italia, ai bad troopers. Ragazzi oggi vi do una bella lezione di breaking, vi faccio vedere un metodo che si chiama flipping, è un metodo per sviluppare il proprio stile di breaking. Però prima cosa ci vuole? Bravi, un bel riscaramento, quindi let's go! Grazie a tutti! Eccoci qua ragazzi e ragazze, prima di cominciare vi faccio capire come funziona il metodo di flipping. L'idea è che ci diamo altri punti di vista sui nostri passaggi. Con l'esempio dello 6 step vi faccio vedere 5 punti di vista diversi, come si può fare, come si può sviluppare il nostro 6 step e il nostro stile. Si chiamano alto, basso, salto, camino e cambio. Alla fine del video, quando abbiamo imparato tutti i nostri punti di vista diversi, vogliamo provare a mettere tutti i nostri passaggi insieme, in un modo freestyle. Perché nel breaking, la cosa più bella è, se balliamo in un modo freestyle con i nostri passaggi, che è un compito molto difficile, ci vuole tempo, però ce la faremo. Vi faccio vedere un attimo il mio 6 step e poi dopo lavoriamo insieme sui punti di vista diversi dello 6 step. Se ancora non lo sapete fare, non fa niente. Questo metodo di flipping potete usare per qualsiasi passaggio vostro, quindi non vi preoccupate. Ok, ricordiamoci un attimino dello 6 step. Ve lo faccio vedere una volta lento. Poi, se ancora non lo sapete fare, chiedete ai vostri maestri, per esempio Cillo, BB Heavy, dei Bad Troopers, e loro vi fanno capire come si fa perfettamente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima posizione. Invece adesso con il metodo di flipping andiamo in alto, cambiamo il punto di vista, che sarebbe, prima posizione, e facciamo il primo passo con il piede destro, oppure se fate lo 6 step all'altro lato, con il piede sinistro. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piede destro, va davanti, piede sinistro, piede sinistro, va indietro, piede destro, si apre, piede sinistro, va davanti, piede destro, dietro, e piede sinistro, e piede sinistro, va al lato. E ci siamo. Sono gli stessi passaggi, solo usando le gambe. Adesso vi faccio vedere un po' veloce. Come avete visto, è molto simile al top rock. Invece adesso andiamo al basso, del nostro secondo punto di vista. Prima posizione è qua. La gamma destra comincia, come sempre, davanti. 1, poi la gamma sinistra si apre, 2, poi andiamo sulla pancia, e sul tetto, 3, poi apriamo all'altro lato, 4, chiudiamo, 5, e andiamo nella prima posizione, 6. E, di nuovo, un po' più veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, niente complicato, è sempre lo stesso passaggio dello six step, solo che abbiamo cambiato il livello, il punto di vista. Andiamo al terzo punto di vista, che sarebbe salto. Adesso, rimaniamo nella posizione di base dello six step. Solo, che in qualsiasi posizione dello six step, possiamo mettere uno salto. Ovviamente, non in ogni posizione. Però, quando ci va, quindi con il tempo della musica, mettiamo un saltino. Vi faccio vedere lento lento, e dopo con la musica. Uno, metto un salto qua. Due, metto un salto qua. Tre, metto un salto qua. Quattro, metto un salto qua. Cinque, metto un salto qua. E sei, metto un salto qua. Ok, adesso vi faccio vedere con la musica Ovviamente, come dicevo prima, non metto il salto in ogni posizione Solo quando mi va, quando me lo sento Allora, andiamo al quarto punto di vista Il cambio Come funziona il cambio? Nel mio caso, lo sic se faccio anti-orario Il cambio vuol dire che cambio la direzione Vi faccio vedere Andando anti-orario Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Cambio la direzione Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Oppure è possibile in qualsiasi posizione dello six step Per esempio Uno, due, tre, quattro Cambio direzione Uno, due, tre, quattro Oppure Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro Ok? Una cosa molto importante che vi voglio insegnare Dello six step Che è fondamentale Lo six step Andando con la musica Che è molto importante Non si conta Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Si conta Uno, due, tre, quattro Vi faccio vedere Uno, due, tre, quattro Cambio Uno, due, tre, quattro E' molto importante perché andiamo con il tempo della musica Ultimo punto di vista ragazzi e ragazze Cambio Cosa vuol dire cambio? Usiamo lo spazio Ok? Perché quando balliamo sul palco O Nelle cypher O quando Facciamo le sfide Che sono più importante Vogliamo Muovere Vogliamo usare lo spazio Vi faccio vedere Per esempio Quando faccio lo six step Posso andare Indietro E davanti Quindi faccio lo six step Andando Indietro Oppure Andando Davanti Molto importante Che non perdiamo mai La forma Importante la forma Quando facciamo il breaking Abbiamo imparato Cinque punti di vista diversi Sullo six step Alto Basso Salto Cambio Camino Adesso proviamo a mettere tutto insieme Il migliore sarebbe Se riusciamo a ballare freestyle con i nostri nuovi passaggi Quindi facciamo un po' Come conoscete già da bboychillo Botta risposta Faccio una entrata io E te rispondi E di nuovo Facciamo due entrate a testa Usando i nostri nuovi passaggi Dello six step E di nuovo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un ultimo consiglio che vi voglio dare è all'allenamento fate lavoratorio, lavoratorio, lavoratorio usando questo metodo e tutti quei altri metodi che conoscete già o che imparate nel futuro. Ragazzi, vi ringrazio per partecipare a questa lezione con me, BboyWins aka OneCent aka VCE. Spero che ci vediamo presto, guardatevi bene tutte le vaccine dei Bat Troopers e lasciateci un like sui nostri canali che trovate nell'info box sotto i video. Peace!